allora queste sono cuffie della san sisco cuffie da corsa che si connettono con bluetooth molto comode di ottima qualità arriva manuale di istruzioni possiamo rispondere chiamata fare la chiamata e tanto altro passare avanti canzoni arriva astuccio semi rigido molto comodo con la retina dove possiamo mettere il caricabatterie usb micro usb arrivano dei gommini di ricambio ovviamente e poi delle cuffie che io li trovo di ottima qualità la durata batteria è veramente buona il suono è ottimo qui abbiamo spegnimento avanti indietro volume sotto si ricarica con micro usb il cavo è piatto quindi non si attorciglia allora già mettendo lì nell'orecchio essendo fatti in questo modo mantengono molto bene però in più abbiamo questo arco che veramente è difficile quando facciamo corsa che ci cadono si potrebbe dire anzi impossibile che ci possono cadere abbiamo ovviamente scritto sinistro e destro su ogni auricolare sono veramente di buona qualità mi mi piacciono molto si collegano con bluetooth il cavetto è così quindi quando non facciamo più corsa possiamo metterli intorno al colo come la colana senza rischiare di perderli comunque sono molto buone mi piacciono tantissimo ne faccio molto utilizzo quindi un prodotto